Roma, l'anticipo della terza giornata di Serie A tra Sampdoria e Roma, previsto per domani sera, 20 e 45, allo stadio Ferraris di Genova, è stato rinviato a causa dell'emanazione dell'allerta arancione per temporali persistenti e forte pioggia sul capoluogo Ligure. La decisione definitiva è stata comunicata dopo la riunione tecnica al centro operativo comunale. Ancora da decidere la data del recupero che non sarà domenica visto l'impegno Champions della Roma di martedì. Inoltre, il calendario fitto di impegni della Roma, rende difficilissimo se non impossibile un recupero in tempi brevi. L'Argea Serie A ha fatto sapere che la gara è stata rinviata a data da destinarsi. Tra le probabili date previste per il recupero ci sono il 13, o il 20 dicembre.